Io voto no perché penso che bisogna difendere il lavoro e togliere una camera e avere un senato non elettivo contribuisce solo a dare più spazio a chi vuole fare leggi che invece il lavoro lo sviliscono. Questa Costituzione ha aiutato a difendere il lavoro e a battere le ingiustizie dentro le fabbriche, non lasciamo che oggi invece si vada nella direzione contraria, per cui votiamo no.